Mary Jane ASMR sa che ho fatto quel signore? quello che è venuto qua quella volta che avevo le orecchie stolte, le dobra stolte, le sopracciglia deformate magari anche oggi ci sarò bisogno di stavare qualcosa oh ciao ciao come stai? tutto bene? si? sei sicuro? oh a me non pare no 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 a me non pare oh si io sto bene me la cavo? si dico sempre così me la cavo ma mi pare di notare che tu non te l'ha passato bene si è il viso un po' stravolto che ti è successo dove sei stato? no ma non mi dire ti eri perso? ti sei svegliato in una ai piedi di una collina vicino a un fiume ma anche tu? ma tutti così scapitate? no vabbè c'era uno che ha avuto più o meno il tuo stesso problema quello si era perso nel bosco si si era perso nel bosco l'altro no non mi ricordo come si chiama magari probabilmente è tuo amico non lo so vabbè dettagli allora io ti posso dare una bella notizia sai? si ti posso dare una bella notizia la bella notizia è che ti posso dare una sistemata e si e si sto guardando se c'è gli attrezzi adatti per sistemarti perché di solito lo so fare sai eh vabbè ma scusa un attimo la tua bocca prova a sorridere prova a sorridere oh oh ce la fai rimani così ce la fai? no vabbè provo io non so dove metto le mani effettivamente io dico che sai ancora un po' così bisogna sistemare un altro po' mmm si si come ti chiami? Kevin? Kevin ma dove ti sei andato a cacciare? ok ok poi c'hai questi capelli che non sono sistemati per niente ah ma sono pieni di nodi ma c'hai pidocchi? aspetta che c'hai i pidocchi? ma si quando avrai a casa dovrai fare uno shampoo di quelli proprio intensissimi basta dalla terapagia mi raccomando però prima è di darlo uno shampoo anti pidocchio che è di ottima qualità si basta chiedere a loro si 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 ma c'hai tanti tanti pidocchi tic 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 vabbè penso che il grosso l'abbia avuto risolto allora il lobo del tuo orecchio è più grande dell'altro vedi? guardate lo specchio si è più grande dell'altro posso permetti proprio tutto l'orecchio dobbiamo restringere e farlo come l'altro girati così girati così girati così girati così girati così 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 ok bravo ok 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 e le sopracciglia le sopracciglia sono messe malissimo le sopracciglia sono messe proprio male storte allora di qui hai il ciuffo va qua sei senza ciuffo provo a spelacchiarti un po' per aggiustarti solo questo ciglio perché solo questo sopracciglio perché hai il ciuffo qui qua no? cos'è? ti crescono solo da qua? ah ecco qua inoltre noto aspetta che c'è qualche altro peletto questo ciuffo così inoltre noto che un sopracciglia più alto e l'altro più basso come mai? come mai? come mai? allora questo questo più basso non va bene dobbiamo portarlo all'altezza di questo ok ecco qui ok 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 mmm interessante interessante oddio mi è capitata questa cosa dicono è interessante il fatto che tu ti sia perso così senza rendertela conto no a me non è mai capitato assolutamente quanti giorni che sei stato fuori di casa? mmm ho capito si si ecco perché sei ridotto così i denti i denti questo dente è giallo troppo troppo giallo c'è un po' po' marrone e più qua poi c'è tutto pieno di macchie sulla faccia c'è tutto pieno di macchie ma quante macchie quante macchie ci sono qua? ok 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 beh pure di qua pure di qua si si hai bisogno proprio di averla sistemata quando è a casa forse questa macchia fa fatica a venire via mannaccia si fa fatica a venire via questa macchia pure qui sulla fronte eh si il naso troppo lungo troppo lungo il naso così mi senti così? te lo sollevo te lo tiro su te lo restringo sto notando anche la fronte troppo alta dobbiamo restringerla se sto tirando su il naso cioè così tipo una proboscide d'elefante non va bene allora modelliamo questo naso ok vediamo il risultato beh è accettabile è accettabile lo facciamo un altro po' ok guardati allo specchio dimmi come ti vedi va bene va bene la fronte la fronte è troppo alta la fronte è altissima cioè si è allargato tutto qua hai praticamente uno spazio immenso restringiamo restringiamo la fronte restringiamo la fronte restringiamo ok ok restringiamo di più no, non ti vedo ancora a posto sai? c'è così c'è che dobbiamo risistemare proprio sopra il ciclo in questo però adesso e continuiamo a stringere la fronte è troppo alta questa fronte ok adesso sei tornato più o meno quello di prima guardati allo specchio per bene sì ti riconosci adesso? sì, sei proprio tu con qualche bidocchio in più ma sei proprio tu sì sei proprio tu eh io non so come facciate cacciarvi così nei guai a perdervi tra le foreste i boschi ai piedi delle colline non so non ho idea però va bene ma dalla fine ci sono io poi che vi riaggiusto la faccia la guancia la guancia questa guancia è diversa da questa è più anche tu come l'altro dell'altra volta sì questa è troppo schiacciata questa è troppo gonfia schiacciamo un po' questa con le mani ok ok e tiriamo più in fuori questo ok schiacciamo ora sì che sei perfetto beh sei rimasto soddisfatto? sì ormai mi occupo anche di face adjustment per quelle persone che si perdono tra i boschi e non vabbè sì non ti preoccupare se ti dovessi perdere di nuovo e dovessi tornare così stravolito ci penserò io a metterti a posto l'ho fatto ok? ok? beh allora a presto te lo posso dire non tornare così pronto allora ciao